Stata individuata dai carabinieri della compagnia di Vittoria, una baby gang responsabile di una rapina in danno di un minore preso a calce e pugni. Il 16enne e il 17enne si trovano nell'istituto penale per minorenni di Catania, Bicocca. Non usa mezzi termini il consigliere comunale Sebastiano Arcidiacono, che punta il dito contro l'amministrazione comunale di Catania, rea di pensare più ai lavori di facciata che non ai problemi reali con i debiti. Cerimonia di intitolazione dell'impianto sportivo polivalente di Santa Croce Camerina a Loris Stival, il bimbo di 8 anni ucciso brutalmente nel 2014 per il cui delitto è stata condannata in primo grado la madre. Costituire le giovani generazioni ad avere più rispetto dell'ambiente e attraverso loro educare gli adulti è lo scopo di un protocollo tra lega ambiente e l'ufficio scolastico regionale che proprio stamattina si è concretizzato. Da poco superate le 14 e 15 siamo tornati in diretta con una nuova edizione del nostro telegiornale. Benvenuti a tutti i nostri telespettatori. Dunque lo avete ascoltato dai titoli in apertura la cronaca e ci occupiamo dell'arresto nei confronti di un 17enne e un 16enne. Avevano formato una baby gang dedita a rapine molto violente ai danni ad esempio in una circostanza di un minore. Ad incastrarle le immagini di video sorveglianza a portare a termine l'operazione i carabinieri della compagnia di Vittoria. Tutti i particolari da Viviana Sammito. Erano le 21 e 30 del 5 marzo scorso nel centro di Vittoria due ragazzi dopo essersi avvicinati a un giovane di 13 anni che stava passeggiando. Lo hanno preso a calci e pugni scaraventandolo a terra e derubandolo di un cellulare, di un paio di occhiali da sole, di pochi euro in contanti. Le scene che vi mostriamo sono state riprese da una telecamera di video sorveglianza. La vittima ha subito traumi cranico e contusivo alle ginocchia, i ladri si sono dileguati. Dopo mesi di indagini i carabinieri di Vittoria hanno individuato una baby gang, due ragazzini di 16 e 17 anni studenti già conosciuti per furto, come gli autori della rapina con aggressioni fisiche e hanno eseguito due misure di custodia cautelare nell'istituto penale per minorenni. emesse dal GIP del Tribunale per i minorenni di Catania, Russo, su richiesta del sostituto procuratore Vassallo. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire momenti salienti fondamentali per definire l'impianto probatorio. Il 16enne e il 17enne si trovano nell'istituto penale per minorenni di Catania Bicocca. Le indagini dei carabinieri continuano per accertare collegamenti e responsabilità in altri episodi analoghi avvenuti nel territorio. Almeno 20 persone sono morte oggi nel naufragio di un barcone con a bordo circa 500 migranti diretto verso l'Italia avvenuto a circa 30 miglia dalle coste libiche. Sono in corso le ricerche di altre persone finite in acqua. Le operazioni sono coordinate dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera. In zona stanno operando nave Fiorillo della stessa Guardia Costiera, un rimorchiatore e una nave di una organizzazione non governativa. Secondo quanto si apprende, il barcone sul quale vi erano circa 500 persone si è pegato su un fianco e oltre 200 migranti sono finiti in acqua. Per la ricerca di altri superstiti, la centrale operativa di Roma della Guardia Costiera ha disposto che altre proprie unità ed altri mezzi navali raggiungano al più presto l'area del naufragio. Sono anche in corso le operazioni per soccorrere le altre persone rimaste sul barcone. Le favorevoli condizioni meteo hanno determinato oggi un esodo di migranti dalla Libia verso l'Italia. La polizia di Comiso ha arrestato due ladri che hanno perpetrato circa un mese fa un furto nella casa di due anziani. I due pregiudicati sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza del GIP di Ragusa su richiesta del PM. Rintracciati ieri pomeriggio sono stati condotti agli arresti domiciliari. Hanno atteso che la signora uscisse di casa intorno alle 7.45 per portare a termine il furto ma sono stati incastrati dall'arrivo della proprietaria che si era solo allontanata a piedi per andare nella vicina abitazione della figlia. Ha preso con sé la nipote e è arrivata dopo circa un'ora davanti al portone ha sentito rumori provenire dall'interno. Era il 27 aprile e siamo a Pedalino, frazione di Comiso, ma solo ieri l'ordinanza del GIP è stata firmata. I due ladri, pregiudicati i comisani, Salvatore Andolina di 38 anni e Dario Interdonato di 33, sono riusciti a entrare nell'abitazione di due anziani forzando la porta di abitazione in legno che era chiusa semplicemente senza giro di chiave e hanno arraffato un bottino di 5.000 euro. L'anziana ha visto il volto dei due malviventi che hanno, indisturbati, agito a volto scoperto mentre uscivano dal garage con in mano un sacco di plastica contenente l'ingente refurtiva, monete antiche da collezione, numerosi orologi e monilistie in oro che bigiotteria e contanti. La vittima del furto ha saputo dare delle indicazioni sugli indumenti che indossavano e una vaga descrizione fisica. Le immagini di videosorveglianza hanno dato conferma dei sospetti della polizia che conosce bene i due comisani incastrati anche dall'auto utilizzata per arrivare sul luogo del furto. Lo stesso veicolo è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza la stessa mattina alle 6.29. Il materiale rubato è stato rinvenuto e sequestrato nel corso di una perquisizione a casa di Interdonato dove erano anche stati nascosti 3.500 euro provento di furto, secondo gli agenti. I due malviventi hanno anche divelto una cassaforte di metallo rompendo con il flex il lucchetto dove il proprietario custodiva alcuni fucili legalmente detenuti che non sono stati rubati. Andolina deve anche rispondere di simulazione di reato avendo riferito per depissare le indagini di avere subito il furto della sua auto che è stata trovata vicino all'abitazione presa di mira. Convocato in commissariato, il pregiudicato ha raccontato che stava andando a lavorare quando si è accorto che la sua auto era stata rubata, una versione cui non hanno creduto i poliziotti. L'auto era stata abbandonata per la fuga poco distante dall'abitazione dove è stato perpetrato il furto ma era regolarmente chiuso a chiave. I due soggetti sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza del GIP di Ragusa su richiesta del pubblico ministero. Rintracciati ieri pomeriggio sono stati condotti agli arresti domiciliari. I carabinieri della Compagnia di Modica invece hanno arrestato due ladri in flagranza di reato mentre asportavano cavi di rame. Grazie all'intervento dei carabinieri della Compagnia di Modica è stato scongiurato un furto di cavi di rame da un impianto di illuminazione pubblica. I carabinieri della stazione di Ispica hanno arrestato in flagranza di reato tre persone sorprese mentre asportavano dei cavi di rame sulla strada provinciale 67 Pozzallo-Pachino. Si trattava di tre persone, nello specifico tre giovani di nazionalità romena di 26, 21 e 20 anni, tutti incensurati e senza fissa dimora, che dopo averli già tranciati stavano asportando circa 60 metri di cavi elettrici di rame dai tombini dell'illuminazione di proprietà dell'Enel. Gli stranieri alla vista dei militari hanno tentato la fuga verso la vicina spiaggia ma sono stati immediatamente bloccati. Sottoposti a perquisizione sono stati trovati in possesso di diversi arnesi di scasso utilizzati poco prima per compiere il reato. Condotti, i tre stranieri in caserma, i carabinieri di Modica li hanno dichiarati in stato di arresto per il reato di furto aggravato e successivamente, su disposizione del sostituto procuratore di turno presso il Tribunale di Ragusa, sono stati rinchiusi all'interno del carcere di Ragusa. E' stato emesso il fermo indiziato di delitto nei confronti dello sciclitano Gianluca Agolino con l'accusa di rapina aggravata e detenzione illegale di oggetti atti ad offendere. L'uomo, con la minaccia di un coltello alla gola, si è fatto consegnare 400 euro dalla titolare della fioreria del cimitero di Scicli e poi si è dileguato a piedi. Stamattina i carabinieri, a seguito dell'identikit fornito dalla vittima, hanno fermato Agolino intorno alle 8 a Scicli e durante la perquisizione li sono stati trovati addosso accendini e fogli di giornale. L'uomo fermato è lo stesso che era stato arrestato per l'incendio dei mezzi della Polizia Municipale e per aver bloccato, con una scusa, l'auto dei carabinieri, cospargendola di benzina. Era stato scarcerato dieci giorni fa, oggi torna nella casa circondariale di Ragusa. Allarme acqua inquinata a San Giacomo, frazione di Ragusa e di ieri la notizia che almeno 30 residenti hanno accusato malori, ma sentiti i carabinieri e il primario del pronto soccorso dell'ospedale civile di Ragusa hanno riferito che solo una donna di 44 anni si è presentata con crampi addominali e vomito almeno fino a stamattina. Le cause sono da accertare. La signora ha raccontato di aver bevuto acqua minerale non dal rubinetto, quindi sarebbe esclusa l'ipotesi delle falde acquifere inquinate. In assa hanno sequestrato la bottiglia per effettuare le analisi. Non usa mezzi termini il consigliere comunale Sebastiano Arcidiacono che punta il dito contro l'amministrazione comunale di Catania rea di pensare più a lavori di facciata che non ai problemi reali, come i debiti che peseranno sui catanesi fino al 2042. Catania affogherà nei debiti fino al 2042. Lo scrive nella sua pagina Facebook il consigliere comunale Sebastiano Arcidiacono del gruppo misto che punta il dito contro l'attuale amministrazione che a suo dire è più interessata a passerelle e inaugurazioni piuttosto che pensare a non ingigantire ancora di più dei debiti che peseranno sulle future generazioni. I debiti aumentano e si accumulano, ma soprattutto si sta facendo una scelta che io considero scelerata di spalmare in 30 anni il pagamento di questi debiti. È stato fatto col DL35 che è per 185 milioni più 65 di interessi, quindi circa 250 milioni. Lo si sta facendo con i 140 milioni del disavanzo e degli ulteriori debiti fuori bilancio. Insomma siamo a circa 500 milioni di Euro che vengono distribuiti per il pagamento in 30 anni e senza una strategia di respiro, di ampio respiro anche sull'oggi, evidentemente il risultato è di trasferire solo nelle future generazioni i debiti, provando a salvare invece l'attuale classe politica. Io credo che da questo punto di vista questo non è etico, non è morale. Io credo che ci sia una forte dose di cinismo che punti a salvare se stessi anziché la città. E adesso invece parliamo della manifestazione di ieri in piazza Gramsci a Vittoria, luogo in cui stanno protestando le donne di altra agricoltura. Movimento riscatto e comitato NOAS. Sta a scendere in campo per sostenere anche la battaglia di Giovanni Ciaculli. Ieri il presidente di Azione Civile, Antonio Ingroia. Credo che il modo migliore per ricordare il 23 maggio sia qui a Vittorio, in luoghi come questo, posti dell'ingiustizia, del dolore e della sofferenza di tanti siciliani onesti che si ritrovano attorno a dei simboli come Falcone e Borsellino, uomini delle istituzioni che si sono sacrificati per i cittadini. Sono alcune delle parole pronunciate ieri a Vittoria da Antonio Ingroia, presidente di Azione Civile, che ha anche presentato la proposta di legge la Torre Bis. La manifestazione si è svolta in piazza Gramsci, luogo in cui è stata allestita una serra e due donne di altra agricoltura. Movimento riscatto e comitato NOAS stanno protestando con lo sciopero della fame per un comparto sempre più in crisi. Noi siamo qui per stare al fianco dei cittadini come Maurizio Ciaculli e la signora Rosetta Piazza, che eroicamente stanno protestando per denunciare le ingiustizie di cui sono vittime e di cui i fattori sono molteplici, ha detto Ingroia. C'è una componente che riguarda una politica spesso corrotta, un'economia che è nelle mani delle multinazionali e della grande distribuzione, come dimostra quanto accade all'economia di Vittoria. Noi siamo al fianco di Maurizio Ciaculli e abbiamo chiesto per Maurizio Ciaculli che le istituzioni facciano finalmente la loro parte. Le istituzioni purtroppo sono sorde e allora più le istituzioni sono sorde più noi dobbiamo alzare la voce per farci sentire dalle istituzioni sorde. Questa è un'occasione importante. Ingroia ha dunque invitato e sensibilizzato i vittoriesi a venire in piazza a sostenere la battaglia di Ciaculli, della signora Rosetta e di tante famiglie cacciate fuori dalle loro case, ridotte sull'astrico proprio perché questa ingiustizia ha detto è figlia di questa economia strangolata dalla corruzione e dalle mafie. Partiremo piantando questa pianta, l'albero di carrubo donato dagli organizzatori della manifestazione alla città che è sì simbolo della giornata di oggi, ha detto ieri Ingroia, ma che non deve rappresentare solo un momento di memoria circoscritta. Deve anzi crescere e guardare avanti per restituire fiducia ed energia alle nostre lotte per sorreggere la battaglia degli onesti. Cerimonia di intitolazione dell'impianto sportivo polivalente di Santa Croce Camerina a Loris Stival, il bimbo di otto anni ucciso brutalmente nel 2014 per il cui delitto è stata condannata in primo grado la madre Veronica Panarello, presente il padre Davide che gli ha dedicato una lettera. Ciao Loris, oggi voglio ricordarti felice come lo eri quando praticavi il tuo sport preferito, il taekwondo. Non potrò mai dimenticare i piccoli calci che davi in palestra durante le tue lezioni. Nei dati pochi avresti meritato di calciare per tutta la vita e diventare un campione. E così ti immagino adesso come un piccolo campione, perché da oggi vivrai anche attraverso questo progetto e questa palestra che tutti chiameranno con il tuo nome. Ripensandoci anche il regalo che ti ha fatto la tua insegnante di taekwondo, il kimono, con il quale lei ha vinto i campionati, fa di te un campione. Sono sicuro che adesso le indossi tu quel kimono, mentre insegni agli angeli come calciare. Ma oggi spaziamo via la polvere e quelli brutti rubi che hanno scurato la tua breve vita, perché il tuo ricordo deve essere sempre vivo ed associato solamente a cose belle, come davvero il tuo lavoro. Adesso vale ringraziamenti. Sono davvero contento per la nascita di questo nuovo complesso sportivo che rappresenta una risorsa per tutta la comunità che si interroge. E lo so ancora di più perché porterai il nome di Loris. In questa palestra Loris non potrà giocare mai, ma il suo nome e il suo ricordo saranno vivi e presenti. Commosso, Davide, il giovane papà, partecipe di un progetto che fa del barbaro assassino e del suo piccolo un momento di coscienza civile e di memoria sociale in una comunità devastata dalla tragedia. La cerimonia di intitolazione dell'impianto polivalente di Santa Croce Camerina inizia con l'inno alla gioia, subito dopo la scopertura della targa con il suo nome. Per l'assassinio di Loris, avvenuto il 29 novembre di tre anni fa, è stata condannata in primo grado la madre. Tantissimi cittadini che hanno partecipato all'evento, la società sportiva e l'insegnante di Take One Do, erano presenti con uno striscione. E' molto bello, sono molto contento per questa iniziativa e questo progetto che ha fatto il sindaco di Santa Croce, Franco Aiurato. E' bello, è una bella iniziativa per i giovani, un'aggregazione per tutti i giovani e sono contento. Tra l'altro suo figlio amava molto fare sport. Sì, praticava lo sport anche lui e quindi è bello. E' bello ricordarlo in questi momenti, in queste giornate e sono contento. A sostenere il papà di Loris, l'avvocato Daniele Scrofani. Un momento bello, devo dire, Davide è abbastanza contento nei limiti in cui questo termine può essere utilizzato per una situazione come quella che ha vissuto. E' contento che il nome del bambino venga lasciato e come dire ai posteri con l'intitolazione di questa bellissima struttura sportiva. Quindi penso che questo è un momento in cui il comune di Santa Croce ha mantenuto quello che era stata una promessa fatta tempo fa, proprio a Davide. Quindi insomma è molto soddisfatto. La data, anniversario della strage di Capaci, scelta dal sindaco Franca Aiurato per intitolare la palestra a Loris, non è stata casuale? Manteniamo la promessa fatta per questo bimbo che consegniamo alla memoria, all'affetto della nostra comunità e quindi un connubio perfetto. perché andare oltre, consegnando ai ragazzi l'opportunità di crescere nella legalità, nella condivisione attraverso questa struttura che è nata grazie a un progetto del Ministero degli Interni che si chiama appunto Io Gioco Legale. E quindi all'insegna della legalità celebriamo questa giornata. Nella nuova struttura tensostatica si potrà praticare basket, pallavolo, pallamano e tennis. Il progetto Io Gioco Leale è stato finanziato con i fondi PON. Dopo la benedizione si è proceduto alla consegna delle onorificenze e alla premiazione delle società sportive di Santa Croce. Cambiamo argomento, andiamo a Modica dove il consigliere Tato Cavallino interviene sul palazzo di giustizia. C'è bisogno di una delibera da parte del Consiglio Comunale per restituire giustizia, per scusare il gioco di parole, a quel palazzo. Il consigliere comunale a Modica Tato Cavallino torna a parlare con amarezza dell'ex tribunale di Modica. Lo fa perché si parla nuovamente della struttura, della destinazione d'uso dei locali. Cavallino sottolinea come sia importante non perdere il palazzo di giustizia a Modica o quantomeno destinare alcuni dei locali della struttura di Largo Beniamino Scucces ad attività giuridiche. Una possibilità di cui doveva discutere la conferenza dei capigruppo che si sarebbe dovuta tenere lunedì, ma che è stata di fatto disertata dal sindaco, dall'amministrazione e dai consiglieri di maggioranza. Cavallino però non se la prende solo con i colleghi Modicani, ma ha anche in ballo la deputazione regionale Iblea. Perché deputati regionali? Perché, come diceva bene l'avvocato Scarso, c'era la possibilità tramite la finanziaria del 2013 di poter fare una convenzione tra la regione, quindi Crocetta, che aveva preso un preciso impegno, e lo Stato, di poter stanziare delle somme, circa 400 mila euro, per poter far sì che il tribunale di Modica diventasse, diciamo, una costola, se così vogliamo dire, del tribunale di Ragusa. Bene, tutti i proclami fatti da questa amministrazione regionale in questi anni, poi di fatto, tutt'oggi, non se ne è parlato più. Basta delegare, non abbiamo bisogno più della deputazione nella nazionale e nella regionale, dobbiamo agire come consiglio comunale, quindi come città. E ho proposto, ed è stata accolta la mia proposta sia dal Presidente del Consiglio che da tutti i partecipanti alla riunione, di fare una delibera di consiglio comunale, in cui in forza chiediamo al Presidente Crocetta ci dai queste somme o non ce le dai? E dall'altro canto vogliamo chiedere agli organi preposti per la sicurezza della staticità degli edifici perché non vengono a fare questi controlli a Ragusa? Vogliamo capire se c'è la sicurezza. Pensa che questa sua richiesta possa essere accolta? Ma guardi, io, tenendo le parole del Senato, che lui era disponibile a lasciare un piano a queste eventualità, credo, gli do adito e che l'ha detto e quindi gli credo. Ma dopodiché, sai, in politico ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Pubblicità tra poco. Ben ritrovati alla seconda parte del nostro telegiornale, aperta via fiume a Catania, nel quartiere di Picanello, una strada fondamentale perché unirà il quartiere di Viso da più di 50 anni. Questa apertura è propedeutica a una serie di lavori che cambieranno non solo il volto del Rione, ma anche di Ognina. Da anni e anni, diviso in due parti, il quartiere di Picanello, grazie all'apertura del ponte di via fiume, potrà da oggi contare su un nuovo riassetto, che è solo il prologo di un progetto ben più ampio, che coinvolge la stazione di Ognina, la nascita di un parcheggio da 120 posti e soprattutto la nuova viabilità del lungomare con il progetto di via l'Alcide dei Gasperi, così come spiegato questa mattina dal sindaco che ha fatto un sopralluogo proprio del ponte di via fiume. È un'opera di sutura che riconsegna a un quartiere quella sua unità che fa parte delle condizioni della vita. Ma la cosa bella è che ormai siamo in dirittura d'arrivo, non solo il cavalcavia, ma rispettando i tempi, le ferrovie dello Stato entro poche settimane ci consegneranno la stazione di Ognina, a fianco ci sarà un parcheggio, che servirà anche il lungomare e tutto questo comporta naturalmente la possibilità di utilizzare a questo punto la linea ferroviaria Catania-Messina, che diventa effettivamente una linea metropolitana. Quindi oltre alla metropolitana che c'è oggi nel centro della città, ce n'è una sulla dorsale ionica che consentirà a coloro i quali vengono da Taormina, da Giarre, da Cireale, di arrivare qui a Ognina, di arrivare a Piazza Europa, di arrivare alla stazione, lì di interconnettersi con la metropolitana e quindi avremo un'ulteriore vera metropolitana a Catania. Fra poche settimane dovremo riuscire a appaltare anche la gara per il completamento della Viale Alcide De Gasperi, che significa, lo voglio dire, quando tutto Viale Alcide De Gasperi sarà pronto, l'idea che io ho è quella di avere un lungomare chiuso sempre al traffico privato, con l'alternativa a Viale Alcide De Gasperi, ed è uno dei più bei lingomari d'Europa, fruito finalmente a piedi e in bicicletta. Una cosa meravigliosa, non è un sogno, comincia a diventare realtà. Sono stati aggiudicati i lavori di ampliamento del campo sportivo Gaddimeli di Marina di Ragusa all'impresa Pegaso Costruzione SRL di Brolo per l'importo di 179 mila euro. Gli interventi riguardano l'ampliamento del terreno di gioco del campo di calcio, la rimozione successivo, riempimento delle alberature esistenti presso l'aiuola di Via Cervia e lo spostamento dei pali di illuminazione del campo di calcio e la realizzazione della nuova linea di alimentazione elettrica oltre la suddivisione della tribuna esistente mediante rete d'acciaio per delimitare le due tifoserie e la realizzazione di una nuova rampa accesso alle tribune. Siglato accordo tra Lega Ambiente e l'Ufficio Scolastico Regionale per tutelare l'ambiente. Scuole e ambiente verso una cittadinanza ecologica. Questo è il titolo della conferenza che si svolta questa mattina presso l'Orto Botanico di Catania e voluta da Lega Ambiente Sicilia di comune accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale. I due enti hanno firmato un protocollo d'intesa volto alla promozione di iniziative di sensibilizzazione, educazione e formazione rivolte a tutti i cittadini, con non particolare attenzione agli studenti e agli insegnanti sulle tematiche ambientali, sulla qualità dello sviluppo sostenibile, sulla cittadinanza attiva e sul rapporto tra scuola e territorio. Investire sui giovani, investire sui bambini, sui ragazzi, ma non solo perché sono i futuri cittadini, ma soprattutto perché da loro possiamo ricavare moltissime risorse. Forse dobbiamo lasciare il passo alle loro idee, alle loro proposte, perché hanno una visione del mondo ancora più genuina e diversa ormai dalla nostra. E questa è un'occasione appunto per rivolgersi a loro, attraverso le scuole ovviamente, proponendo il progetto La Costa Racconta, che è un contenitore, la proposizione di una collaborazione sia della collettività, di esperienze territoriali dal punto di vista esperienziale, ma anche da parte delle istituzioni. Quindi collaborare, parlare tutti insieme, trovare una soluzione e provare a modificare questo nostro stile di vita che sicuramente non è molto salutare, né per noi né per l'ambiente. Nell'ambito dei festeggiamenti di San Giorgio Martire a Ragusa è stata celebrata ieri la giornata del sollievo. I solenni festeggiamenti in onore di San Giorgio, glorioso patrono di Ragusa, sono stati caratterizzati ieri sera da uno speciale momento con la celebrazione della giornata del sollievo al Duomo. La Santa Messa è stata presieduta dal parroco Don Pietro Floridia con il direttore dell'ufficio diocesano per la pastorale della salute, Don Giorgio Chipinti, che ha promosso l'iniziativa inserendola nel calendario dei festeggiamenti in onore del Santo Cavaliere. Ho scelto di inserirla durante i festeggiamenti del Santo perché, ha dichiarato Don Giorgio Chipinti, quando nel lontano 1985 ho fatto volontariato in oncologia una malata con tumore alle osse, tumore significa tu muori, trasse da sotto il cuscino un'immaginetta di San Giorgio dicendo che anche lei combatteva contro un famoso drago che la stava divorando, il cancro, e nonostante tutto il suo sguardo era rivolto a fiducioso a Dio, continua Occhipinti. Proprio come San Giorgio, che mentre combatte il maligno guarda fiducioso il cielo, contemplando Cristo, nostro Salvatore. La croce per noi cristiani, spiega ancora Don Giorgio Chipinti, rappresenta non un segno di sconfitta, ma di vittoria, quella vittoria che San Giorgio ottenne attraverso il martirio, tra l'altro ho anche fatto riferimento a una canzone di Franco Battiato, la cura, visto che ogni essere umano è speciale e noi avremo cura di lui, così come recita il testo del grande maestro Catanese, scrive Don Giorgio Occhipinti. Dopo la recita del Santo Rosario alle 18.30 al Duomo e la celebrazione della Santa Messa alle 21.30 è in programma un incontro di preghiera carismatica, un appuntamento ormai tradizionale che ogni anno risulta essere molto partecipato dai fedeli. Intanto mancano pochissimi giorni, oramai all'arrivo dei festeggiamenti trionfosi, del megalomartire domenica a partire dalle 19.00, le nostre telecamere porteranno all'interno delle vostre abitazioni tutta l'emozione della festa di San Giorgio a Ragusa Ibla. Si celebra oggi Maria Ausiliatrice, le celebrazioni sono già iniziate questa mattina e proseguiranno alle 18.30 con il Santo Rosario a cui seguirà la celebrazione della Santa Messa presso la chiesa della Madonna delle Lacrime a Modica. E sempre questa sera alle 19.30 presso l'Oratorio Don Bosco al quartiere Dente di Modica saranno rievocati in uno spettacolo talk show presso il teatro parrocchiale gli ultimi 50 anni dell'Oratorio. È davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci scelto e buon proseguimento su Video Mediterraneo.